Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi facciamo casino come sappiamo solo noi fare Oggi ragazzi andremo diciamo da alcune persone a scattarci un selfie con loro Semplicemente cosa dovremmo fare? E' un panico E' un panico, e' un panico Facciamo cinque persone per uno, quindi cinque Thomas e cinque io E' nulla, andiamo lì tipo a scattare un selfie, anche se in realtà stiamo registrando un video e vediamo la loro reazione Se c'è meno no ragazzi, mi raccomando, chiamate R118 per noi Poi ragazzi qui sotto in descrizione vi lascio il link della pagina di Thomas, di Facebook Andalo, se qui mi raccomando, segnalate in tanti E niente ragazzi, noi ci becchiamo dopo all'ospedale, bello Let's go! No! No! no oh sorry hi selfie selfie grande africa grande 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 grandissimo tu sei un grande e andiamo dimmi qualcosa dimmi qualcosa ai romano e dai andiamo forza 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 africa hi selfie thanks hi io dico hi e non mi risponde nessuno perché perché ne so io ma non lo so pure con me che ce l'hanno non lo so ma non lo so vabbè speriamo che sono quasi altissimo selfie with chiara ferragni chiara chiara sta al telefono giustamente chiara cosa cosa hai da dire dai chiara dici qualcosa una cosa dici una cosa e poi te mando cederanno io me ne vado che devo dire ciao a tutti che devo dire io non sono chiara ferragni no tu sei chiara ferragni sei uguale sei più bella di chiara ferragni è più bella di chiara quindi niente selfie 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 scusami scusami speriamo questo prank vi sia piaciuto anche se la gente ormai non risponde più come rispondevamo no se correvano a presto prima adesso sono tutti più tranquilli è brutto comunque ragazzi se vi è piaciuto questo io lasciate un bel like mi raccomando seguite domani grazie mi raccomando come casino tolcratico su tutti quanti i social il link è sotto la descrizione e niente ciao siamoci io ciao belli ciao ma vuoi almeno salutare? ho bella per voi raga come è stata? niente vabbè vediamo a me mando un bacione ciao a 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